L'esempio di questo giovane che è morto per consegnarci questo futuro, come tanti altri purtroppo insieme a lui, debbono essere un elemento da portare avanti per i prossimi 80 anni e per gli altri 80 anni ancora. Perché è un... Sì, 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 sì. Siamo riusciti a, grazie, lo voglio ricordare, a Lorenzo Coglia, se c'è, che da Presidente della provincia, che io sono. Pintor aveva ragione, la gioia continuiamo a trovarla. Purtroppo molti... Mi è venuto a Cristo. Purtroppo molti di questi insieme... Siamo ragazzi, solo un mare e un vecchio.